buongiorno buongiorno buon pomeriggio buona domenica a tutti benvenuti di nuovo su fotografia professionale ciao a tutti ciao ragazzi i soliti il solito gruppone di amici qualcuno nuovo benvenuti benvenuti a tutti ciao ragazzi ciao viviana ciao tommaso ciao stefano bene 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 ciao ragazzi e benvenuti di nuovo eccoci qua eccoci qua anche di domenica la non so neanche credo trentanovesima oggi è il 19 quindi trentanovesima puntata delle nostre dirette giornaliere e quarta per quello che riguarda le nostre chiacchiere sul marketing per fotografi oggi vorrei oggi vorrei che fosse il più interattiva possibile vi spiego cosa succede oggi vabbè intanto buona domenica a tutti spero che sia una domenica tranquilla e rilassata che il pranzo sia andato bene stiamo procedendo con i nostri col nostro percorso allora dicevo oggi vorrei che fosse una cosa più la cosa più interattiva possibile perché parliamo fondamentalmente di un un esercizio no quello di che ci serve per trovare la nostra nicchia ideale e quella che ci serve anche per individuare i nostri potenziali clienti quelli che ci serve per trovare la nostra strada e i clienti che possono essere ideali per noi clienti che possono essere anche i clienti di un appassionato è quello quelli che ci seguono e quelli che sono l'ideale per noi anche se sono solo un appassionato è solo è sempre una parola che prima di appassionato mi piace poco come sapete anche se sono appassionato in realtà ho un'audience o un'audience che con la quale devo parlare e l'ideale sarebbe parlare proprio la lingua delle persone con le quali ho a che fare ogni giorno e con gli utenti della mia della mia fotografia ormai tra il corso di photoshop e le dirette giornalive vedo pittà di mio marito succede la stessa cosa anche con un sacco di di mariti che vedono più me della moglie spero che questa cosa non succeda però diciamo che se dedichiamo un'oretta al giorno insieme a fare queste cose dai può essere può essere utile quindi vi dicevo in questo mese abbiamo visto un sacco di cose che riguardano la posta e anche alcune cose che riguardano il marketing oggi mi piacerebbe che fosse un lavoro fatto di domande e di risposte in modo da poter così capire quelle che è quella che è la vostra strada la vostra strada ideale per fare questo ho preparato una sorpresa che però vi svelo alla fine ok e un po' incominciamo a fare la nostra chiacchierata incominciate se volete già a fare domande e io sono qua assolutamente disponibile per rispondervi nel frattempo vi ricordo una serie di cose lo faremo durante la diretta durante questo periodo interagire mi sono appena sdraiato a prendere il sole puoi farlo anche da sdraiato non è un problema puoi scrivere anche da sdraiato allora dicevo in questo mese abbondante ma in questi 40 giorni abbiamo lanciato una serie di cose intanto queste dirette prima di tutto alcuni video corsi gratuiti ai quali avete potuto accedere durante questo mese abbondante la possibilità di rivedere queste dirette anche attraverso il nostro portale video registrandovi e rivedendole tutte in ordine la possibilità di vederli su youtube perché le stiamo caricando una al giorno anche su youtube in modo da riprendere anche sul canale youtube la possibilità di vedere queste dirette e abbiamo lanciato una serie di video corsi completamente nuovi che erano lì in attesa di essere lanciati il primo in assoluto di questi video corsi che abbiamo lanciato è quello di montaggio video con paolo baccolo che adesso fedevi vi linka è un video corso completo sul montaggio video con premiere pro realizzato a paolo baccolo che è l'unico trainer certificato adobe per premiere pro in italia è un video maker professionista e vi accorgerete che anche un trainer fantastico per paolo è veramente divertentissimo e ha un bel modo di raccontare e di spiegare anche software quindi questo è il primo corso in assoluto che abbiamo lanciato abbiamo abbiamo anche i video corsi gratuiti come crea il tuo portfoglio con giorgio cravero che valentina ci dice super interessante con consigli preziosi bene ne sono felice molto felice quindi siamo partiti con il montaggio video con paolo baccolo questo è un corso che siccome può essere molto utile un fotografo perché anche se fate solo fotografia capire di video making può essere molto utile e il video ragazzi è una delle quelle cose che dovrà entrare probabilmente nella proposta di tutti quelli che fanno eventi cerimonie ma anche sullo still life c'è una grandissima importanza del video quindi assolutamente da tenere d'occhio poi magari durante la diretta parliamo degli altri altri corsi allora se ripeto se avete domande mi piacerebbe farla molto molto interattiva la giornata di oggi ha un obiettivo quello di aiutarvi a capire quale strada prendere cioè quale strada prendo voglio incominciare a fare il fotografo voglio incominciare a fare ritoccatore oppure sto già facendo il fotografo sto già facendo ritoccatore avete una serie di opzioni una delle opzioni è quella di essere un generalista cosa intendo per generalista intendo un fotografo o un ritoccatore che lavora su diverse tipologie di fotografia diverse tipologie di immagini diversi settori commerciali si può essere un generalista sì si può essere un generalista quello che presuppone però l'essere un generalista è di diventare super super competente in tanti settori diversi e questo può essere piuttosto difficile perché anche se voglio affrontare solo settori adiacenti fra di loro come il matrimonio newborn maternity e ritratte di famiglia devo comunque essere iper competente in settori che presuppongono delle skill diverse e magari in alcuni casi hanno a che fare con un target differente o con un target in una condizione differente perché la condizione di due persone che stanno per sposarsi è diversa rispetto a quella di coloro che hanno un bambino di cinque anni e hanno una famiglia e hanno esigenze differenti ok in questo senso quindi diventare un generalista anche sul settore adiacenti è piuttosto complicato leggevo le vostre domande scusate se mi sono bloccato dopo vi dico cosa ha scritto Antonio perché mi fa molto piacere pensate quanto può essere complicato fare il generalista su settori molto diversi fra di loro quindi per esempio fare ritratto still life e matrimoni vuol dire avere veramente un cervello in grado di ragionare su condizioni completamente diverse qual è il problema dell'essere un generalista il problema dell'essere un generalista è che devo sapere tante cose devo avere una competenza trasversale molto importante è molto più difficile diventare molto bravo in un settore perché se io sono mi concentro solo su un settore è più facile diventare bravo oltretutto il mio marketing cioè il denaro che investo per promuovermi sarà splittato su tre settori differenti e quindi rischio di non essere efficace su nessuno dei tre perché adesso non è un discorso che affrontiamo oggi ma il budget che investite sulla promozione non è che se io investo 90 diviso tre diviso tre settori ottengo gli stessi risultati che investendo 90 su un settore solo perché c'è un limite di penetrazione sono cose sono concetti che riguardano la comunicazione che io conosco perché ho lavorato in agenzia di comunicazione lavoro in agenzia di comunicazione da ormai una trentina d'anni fra studi grafici e agenzia di comunicazione e la penetrazione del messaggio pubblicitario è fondamentale dipende dalla frequenza quindi da quante volte una persona vede il nostro messaggio pubblicitario dipende da quanto questo è a target quindi prima di tutto essere un generalista rischia di disperdere molto per non disperdere devo avere tre canali di comunicazione diversa se sono tre i settori su questi settori dovrei investire tanto quanto su un settore solo quindi 90 più 90 più 90 quindi ho tantissimo denaro da investire oppure diventa più complicato in questo senso soprattutto per chi inizia ma anche per chi ha già iniziato e non ha i risultati che vorrebbe credo che la specializzazione sia assolutamente più utile e su questo ho fatto anche un video di cui vi parlo vi parlo dopo quindi diciamo che trovare la mia strada parte da scelgo se essere un generalista o se essere uno specializzato essere un generalista può portare a dover fare una cosa che nessuno di noi vorrebbe fare cioè fare la guerra dei prezzi perché siccome sono un fotografo normale in tutti i settori che affronto mi trovo a combattere con gli altri fotografi normali di quel settore che fanno un po' la guerra sul prezzo perché non ho niente di realmente diverso e vantaggioso per il mio cliente rispetto agli altri se sono invece uno specializzato è molto più facile che io riesca a trovare una leva molto più forte che mi rende diciamo così appetibile a una tipologia di clienti addirittura avere uno stile molto molto preciso è il caso per esempio di fotografi come Mitchell Feinberg di cui abbiamo parlato che è uno che fa still life in maniera molto particolare creando texture con gli oggetti e la sua fotografia è immediatamente riconoscibile è il caso di un Giorgio Cravero che ha una mano molto definita e riconoscibile di un Marco Varoli sempre per citare gli amici e i fotografi che conosco meglio quindi da quel punto di vista diciamo che le due scelte presuppongono un ragionamento differente se sono un generalista quindi voglio coprire più settori della fotografia il rischio è quello di dover combattere con molti più concorrenti con un budget più distribuito e di conseguenza meno efficace se sono uno specializzato devo accettare il fatto che alcuni clienti semplicemente non mi sceglieranno perché mi propongo in un certo modo qualcuno arriverà lo stesso mi propongo come specializzato nel matrimonio magari nel matrimonio etnico conosco fotografi che lo fanno ovviamente alcuni clienti non mi sceglieranno per questo però ho l'altro vantaggio che è quello di poter concentrare tutto il mio focus su un'unica cosa soprattutto per noi maschietti è una cosa importante perché le ragazze riescono a pensare a due cose contemporaneamente noi non riusciamo a pensare a due cose contemporaneamente facciamo molta fatica delle volte siamo anche in grado di non pensare a nulla cosa che invece le ragazze non riescono a fare questo è un grande vantaggio il classico cosa stai a cosa pensi a niente solo un uomo riesce a pensare a niente è capitato di fare viaggi in macchina pensando al nulla essere su un divano con l'amorosa di fianco e continuare a pensare a nulla quindi questo è un grosso vantaggio perché scarica un pochino il buffer del cervello ma allo stesso tempo abbiamo la difficoltà di pensare a tante cose contemporaneamente quindi potersi concentrare su una sola può essere sicuramente utile faccio un micro secondo di pausa e leggo Antonio per la prima volta ieri ho scaricato il tuo corso completo sul bianco e nero devo dire che non ero molto fiducioso grazie dopo aver scaricato mille video da altre persone lo capisco ma finalmente ho trovato un professionista serio che spiega noi almeno a me che non sono un fotocoprofessionista in modo facile e completo grazie grazie a te Antonio mi fa molto piacere devo dire io allora i ragazzi i problemi di Diego non ne ho il mio è che è smisurato però devo dire che dopo aver fatto tanti corsi finalmente ho trovato quello che cercavo è uno dei feedback che riceviamo più spesso anche nei corsi dal vivo quindi mi fa estremamente piacere si può iniziare da generalista con un paio di settori soprattutto se parto da zero e poi andare a specializzarsi si Andrea si può iniziare da generalista dipende cosa sono il paio di settori se il paio di settori sono cerimonie e newborn sono abbastanza adiacenti quantomeno il cliente è lo stesso in diversi momenti della sua vita sono clienti simili però il punto è se io inizio da generalista inizio disperdendo inizio disperdendo tantissimo le mie energie allora voi considerate l'impresa di un fotografo come una barca a remi che deve partire il classico canottola canottaggio vi ricordate gli abbagnale con di capua ecco quello che succede è che per far partire la barca ci vuole più sforzo che per farla andare avanti cioè per portare una barca a remi a muoversi a che ne so 5 km orari ci vuole uno sforzo per mantenere quella velocità dopo c'è un'inerzia che ti aiuta quindi l'inizio di un'impresa di qualsiasi tipo è molto più faticoso rispetto che il mantenimento in questo senso all'inizio mettiamo il massimo del nostro sforzo quindi io all'inizio preferisco essere focalizzato perché posso mettere il massimo sforzo in un'unica cosa e guadagnare quindi l'abbrivio molto più facilmente sarà comunque difficile ragazzi e di conseguenza avere la possibilità di arrivare al risultato più rapidamente questo cosa significa? significa che all'inizio io metto tutte le mie energie tutto il mio tempo soltanto su un obiettivo che è quello magari di diventare un bravissimo fotografo matrimonialista poi quando sono diventato il miglior fotografo matrimonialista del circondario o il miglior fotografo matrimonialista del mondo magari invece di andare a cercare altri settori io creo un team di professionisti che lavorano su settori differenti quando siamo partiti con fotografia professionale ci siamo specializzati sulla post perché io faccio il ritoccatore io faccio il formatore nel campo della post poi abbiamo aggiunto settori differenti come la fotografia, come il videomaking generalista sembra un po' brutto da dire io penso che essere capace di fare tutto crea persone complete poi ci sono cose che preferisco che faccio di più capisco che è un po' brutto da dire ma stiamo parlando di marketing e non di creatività essere capace di fare un po' tutto crea persone complete professionisti posso essere d'accordo in realtà il problema è che se tu sei capace di fare tutto sei capace di fare un po' tutto essere capace di fare tutto benissimo onestamente credo che sia impossibile poi ci sono cose che preferisco che faccio di più io non sto parlando di quello che ti preferisci fare tu puoi essere un fotografo specializzato nello still life che poi fa anche ritratti fa concerti fa matrimoni fa quello che gli pare ma il settore nel quale sei specializzato quello che comunichi principalmente è quello che ti permette di essere più efficace nei confronti di una potenziale clientela ok? e questo è il punto non è tanto il però fare soltanto un tipo di fotografia mi limita tu puoi fare tutti i tipi di fotografia che vuoi il problema è che se comunichi il fatto di essere un generalista nei confronti del pubblico sei meno efficace a livello di comunicazione a livello di fotografia io do per scontato che uno specializzato riesca a parità di capacità del fotografo uno specializzato riesce a essere più bravo più in fretta ti faccio un esempio molto semplice io ritocco anche paesaggi l'abbiamo visto ieri ma non è la mia specializzazione un fotografo paesaggista che fa solo ritocco del paesaggio tutti i giorni probabilmente ha delle skill o comunque ha un'abitudine che è diversa dalla mia un'esperienza che è maggiore della mia perché io di paesaggio ne ritocco molto pochi se incominciamo ad andare a ritoccare invece dello still life andare a ritoccare della moda andare a ritoccare degli orologi probabilmente sono più skillato di uno che fa un ritocco diciamo su altri generi allo stesso modo un matrimonialista con trent'anni di esperienza con dieci anni di esperienza con due anni di esperienza ma tutti focalizzati nello stesso stile probabilmente è più efficace di quanto non lo sia uno che fa tanti generi diversi ok questo non toglie il fatto che tu lo possa fare io sto parlando di quello che è la tua efficacia nei confronti di un cliente sarà facile ripartire dopo questo periodo che stiamo vivendo ecco Gian Paolo abbiamo fatto la settimana scorsa domenica se te la vai a cercare una diretta proprio su questo io credo che non sarà facile assolutamente non ci raccontiamo delle cazzate ci sarà gente che salterà per aria ci sarà gente che non lavorerà più o comunque dovrà cercarsi un altro lavoro non lo escludo assolutamente io credo però che sarà più facile per quelli che in questo momento stanno facendo qualcosa per chi in questo momento so di rendermi antipatico non mi preoccupare relativamente è quello che penso per chi in questo momento è lì incazzato che guarda la tv si incazza col governo e non fa nulla probabilmente sarà molto più difficile rispetto a chi in questo periodo sta facendo le cose di cui parlavamo in quella diretta cioè sta migliorando il suo portfoglio sta contattando i suoi clienti sta facendo una lista di potenziali clienti sta incominciando a tenere caldi quantomeno i clienti che aveva già io conosco fotografi anche i matrimonialisti che in questo momento stanno lavorando con i loro clienti non nel senso che vanno a scattare matrimoni perché non si può fare non si possono fare neanche i matrimoni ma nel senso che gli stanno proponendo di farsi da soli dei servizi magari nel senso che gli stanno scrivendo gli stanno chiedendo come va si stanno diciamo si stanno tenendo in contatto che è una cosa fondamentale ecco in questo momento credo che chi sfrutta questo periodo per migliorare il suo portfoglio incominciare a preparare la sua strategia di marketing magari scegliere la propria specializzazione incominciare a preparare una serie di strumenti di marketing dal portfoglio al sito alle prime email alla lista alla quale mandare questi email ben targetizzata cercata con attenzione credo che ripartirà con meno difficoltà ok poi come tutte le macchine parlavamo prima della barca che è più facile tenerla in moto che farla partire allo stesso modo una volta che quella barca si è fermata farla ripartire sarà più difficile che non quello che facevamo prima ma questo non toglie che rimanere in contatto con i propri clienti secondo me può essere una cosa molto utile continuare a fare cose può essere una cosa molto utile non vi nascondo che quello che stiamo facendo noi in questo momento è intanto mantenere dei rapporti con voi scoprire degli utenti nuovi delle persone che scaricano i nostri corsi gratuiti o che compro i nostri corsi che prima non avevano mai fatto trovare persone come dove è finito scusate me lo sono perso come Antonio che compra per la prima volta il nostro corso ed è felice allo stesso modo quello che stiamo facendo mentre voi non lo sapete però non lo stiamo facendo è ristrutturare completamente fotografia professionale come abbiamo fatto già più volte durante gli anni per essere pronti quando si riparte a rispondere alle esigenze delle persone e quando qualcuno alza la mano e dice io ho bisogno di questo essere pronti lì a darglielo certo chi quando uscirà e usciranno si farà un culo al cubo per stare in piedi ne avrà poi dei benefici molto ampi nel lungo tempo credo che chi si sta facendo il culo adesso ne avrà dei benefici molto ampi nel lungo tempo chi adesso non sta facendo nulla e sta aspettando di ripartire per farsi il culo rischia di far molta fatica a ripartire andava bene il mio lavoro prima adesso in questo periodo sto studiando altro per avere più conoscenze studia sì certo la formazione è fondamentale prepara un piano d'azione per quello che succederà incomincia a metterlo in piedi questo piano se versi nello zucchero del caffè non mescoli non accadrà mai nulla un'altra metafora interessante Simone fa il matrimonio di ritocco no perché sono troppo bassi come budget è un settore che non mi interessa ciao sono Anne da poco che ti seguo ma la live mi è servita io ho scelto di dedicarmi a fotografare la vita sono specializzati in ritratti di gravidanza ok neonati bambini in famiglia fantastico è stata una mia scelta perché non mi piace farò benissimo infatti non mi piace fare di tutto un po' infatti se mi chiedono un battesimo lo faccio solo se sono già miei clienti e se si è creata una connessione che per me è l'essenza del mio stile volevo chiederti se quando hai tempo puoi dare un'occhiata al mio sito che aggiornate questi idoni mi piacerebbe avere un tuo giudizio Anna ti ringrazio per la fiducia assolutamente è una cosa che in questo momento specifico non riesco a fare per questioni di tempo e comunque in ogni caso scrivimi mandami il sito lo faccio volentieri se riesco cerco di ve lo dico molto onestamente sto ricevendo tantissimi messaggi rispondo a tutti quelli che posso se dovessi fare questo con tutti quelli che mi scrivono farei soltanto questo tutto il giorno quindi credo che sia più utile darvi questi contenuti piuttosto che andare a dare una piccola consulenza ad ognuno lo facciamo insieme durante queste dirette ok sicuramente ci sarà un'implementazione degli e-commerce consigli sulla post allora partiamo da un concetto che chi aveva un e-commerce lo sta facendo funzionare sta ottenendo sicuramente dei risultati non enormi però sicuramente sto parlando di e-commerce di prodotti e non del nostro chi fa partire un e-commerce dopo ormai è tardi cioè gli e-commerce devono partire adesso ok quindi consigli sulla post per l'e-commerce è una post molto veloce molto economica quindi processi per riuscire a fare bene la post di un e-commerce è fondamentale organizzare dei processi uno standard di lavoro un protocollo di lavoro scritto e standardizzato che ti permetta di essere molto veloce sull'e-commerce non è la qualità del risultato che conta tanto perché comunque rimane piccolo ma è la velocità per ottenere la quantità la qualità sufficiente quindi una qualità media di prodotto come post ma processi standardizzati molto veloci e molto organizzati per riuscire a fare tutto nei tempi perché è lì che si gioca la gara sull'e-commerce sulla velocità domandano un milione di dollari ok sto partecipando a tutti i contest dei ritocchi di divento un pro approcciandomi come tu cliente e io fornitore yes cerco di attenermi il più possibile al brief ok sì ogni tanto brief con la i brief ogni tanto ti parte la la vena però sì parlo con Walter mi permetto con Walter di avere un certo tono perché Walter è un allievo di accademia è una persona che conosco da tanti anni e con la quale credo e spero di avere un ottimo rapporto quindi si scherza come se fossimo davvero fra amici secondo la mia visione avrei dovuto vincere sempre ma ovviamente non è stato così ok allora hai interpretato probabilmente male lo stile e quello che chiede il cliente quale è il modo migliore per costruirsi una capacità critica corretta per soddisfare il cliente rischiando almeno possibile di prendere badilate sui denti tutte le volte che prendi una badilata sui denti cerca di capire perché quando voi avete un grosso vantaggio nel gruppo di Ventum Pro e in accademia ne avete un enorme quello che noi stiamo facendo sul gruppo di Ventum Pro è dare feedback a ogni lavoro ma chi entra in accademia fa un'esercitazione alla settimana e sull'esercitazione gli viene fatto un video con le correzioni che è decisamente più ampio rispetto a quella che è la correzione fatta in un post bene attraverso quei feedback tu devi cercare di capire cos'è che il tuo cliente vede che non va perché l'interpretazione del pensiero del cliente è fondamentale io di solito quello che faccio con un cliente nuovo è mandargli un test subito se dobbiamo fare un lavoro lui lo analizza lo guarda e mi dà delle direttive io devo essere abbastanza bravo da capire quali sono quelle direttive e poi seguirle sempre quindi il fatto Walter per esempio che una delle cose che ti dico più spesso è di alleggerire la mano in parte l'hai fatto e di non esagerare significa che a livello commerciale la tua post è probabilmente un pochino sopra le righe questo ormai va corretto l'hai fatto perché l'hai fatto sei stato molto bravo da questo punto di vista ci sono alcune cose da sistemare però è una questione di capire e aggiustare il tiro il più possibile ok ok la storia c'è il signor che i grandi vantaggi competitivi si sono costruiti nei periodi di grande crisi sì questo è vero i periodi di grande crisi aiutano a costruire vantaggi competitivi attenzione perché ci sono diversi modi di fare questo c'è lo sciacallaggio cioè mi metto a faccio paura alla gente e la sfrutto per vendere prodotti e c'è invece il mi rendo conto che questo mondo cambierà da un certo punto di vista e sono pronto per rispondere alle esigenze di questo mondo in cambiamento se è vero che fino a marzo dell'anno prossimo non fanno fare grandi eventi chi fa fotografia di grandi eventi entro marzo dell'anno prossimo deve trovare il modo di vivere quindi deve trovare o un altro settore sul quale lanciarsi o un altro modo di fare fotografia di eventi o un settore differente ok perché c'è un libricino fantastico che vi consiglio che è uno dei primi che mi hanno fatto leggere che si chiama chi ha spostato il mio formaggio scrivetevelo chi ha spostato il mio formaggio è la storia di due topolini che cercano il formaggio perduto se il settore nel quale avete sempre lavorato è un settore che non ha più sbocchi a livello economico dovete semplicemente cambiare settore non ci sono ok di ritocchi su foto di matrimonio allora qual è la differenza fra divento un pro e accademia allora divento un pro è un gruppo è un gruppo facebook nel quale facciamo dei contest accademia è un percorso percorso piuttosto impegnativo e molto molto concreto diciamo così quindi nel gruppo divento un pro facciamo dei contest per farvi lavorare in questo periodo e per farvi crescere in questo periodo in accademia c'è un percorso formativo totalmente diverso fotografia di strutture turistiche di food possono essere considerate seppure siano dei generi diversi come un unico settore specialistico a livello di marketing non specialistico perché le strutture turistiche sono architetture interni e il food è still life food quindi sono due cose diverse se tu fotografi strutture turistiche e ristoranti è una cosa il food è un'altra roba quindi sono due settori differenti è vero che in alcuni casi se il food è fotografi i piatti di quella struttura turistica puoi rispondere a due esigenze dello stesso cliente però non sei esattamente uno specializzato non troverai cioè se ti proponi come fotografo di strutture turistiche non troverai mai o sarà difficile che ti trovi l'azienda di food che ti viene a cercare per fotografarti per farti fare fotografie scusa trova la tua strada scopri la tua nicchia e i tuoi clienti ideali come farli in questo periodo storico io faccio principalmente eventi ok e ritratto però in un anno non ci saranno eventi ok e difficilmente qualcuno cercherà fotografi in tempi stretti al massimo per eventi molti futuri ora posso puntare sui ritratti ma difficilmente riuscirai a guadagnarci il giusto perché difficilmente riuscirai a guadagnarci il giusto guarda Stefano che ha letto chi ha spostato il mio formaggio allora perché difficilmente riuscirai a guadagnarci il giusto allora ci sono diverse tipologie di ritratto c'è un ritratto fatto a le persone che difficilmente ti dà economicamente dei vantaggi e c'è un ritratto invece che è quello che chiamiamo ritratto business che è completamente diverso una persona come me fa un servizio fotografico ogni sei mesi massimo un anno perché ho bisogno delle foto per tutta la comunicazione dei corsi per fortuna lavoro con dei fotografi e quindi li pago per fare i servizi fotografici di questo tipo ma una persona come me che non è un imprenditore di livello mostruoso anzi è una nostra una piccola azienda ha comunque bisogno di foto per due volte all'anno un imprenditore ha bisogno di foto per i magazine che lo pubblicano per il profilo LinkedIn per il profilo Facebook per il company profile eccetera eccetera quindi i ritratti si sono una potenziale fonte di guadagno se vai sul settore giusto quindi vatti a cercare le possibilità che ci sono le opportunità che ci sono nel settore del ritratto finisco di rispondere alla domanda di Valerio perché mi aggancio con una cosa io ho preparato un esercizio che è questo è fatto è in quattro pagine ok in quattro pagine ci sono dodici domande diciamo così la prima pagina è specializzazione identifica la tua anica ideale dei tuoi potenziali clienti e la prima domanda è quali settori della fotografia o del ritocco ti affascina e ti appassionano di più cioè quali sono quelli che ti piacciono di più ti fai una lista e segni cinque settori che ti piacciono di più fotografia di eventi fotografia di ritratto eccetera 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 bene in quali dei settori che ti appassionano di più sei più competente cioè dov'è che capisci di più e questa è la seconda domanda che devi fare la prima quali settori mi piacciono la seconda in quali di questi do il meglio dov'è che ho più talento dov'è che conosco di più che sono più bravo a fare il mio lavoro e lì vai a schermare già perché se ne hai segnati cinque magari ne rimangono tre la terza domanda importante è qual è di questi che conosci meglio qual è quello in cui hai più cultura perché una cosa che mi dice sempre il mio socio Andrea è non entrare mai in un business che non conosci faccio ritocatore da più di vent'anni fotografia professionale nata dieci anni fa insegnando fotoritocco ok e prima ho dovuto imparare a insegnare quindi quale settore fra quelli che mi piacciono e fra quelli che sono bravo a fare quale conosco meglio quale sul quale ho più cultura a questo punto incomincio a avere uno o due settori che sono la mia possibile specializzazione adesso su quei settori faccio un altro lavoro che è analizzare il mercato quindi la seconda scheda che devo compilare è analizzare il mercato c'è un pubblico interessato a una delle mie due specializzazioni potenziali c'è esiste c'è qualcuno che vuole quelle foto voglio fare il fotografo di ritratto business c'è qualcuno che è interessato a quella tipologia di immagini sì esiste ok il pubblico a cui servono quelle immagini seconda domanda è disposto a pagare è disposto a pagare quello che io voglio cioè il mio fee e terza domanda il mercato è florido cioè sì c'è un pubblico interessato sì è disposto a pagare quello che voglio io ma quanti sono perché se sono cinque e ci sono già cinque fotografi è un casino se invece sono milioni migliaia e ci sono pochi fotografi e in Italia gente che fa ritratto business non ce n'è tantissima c'è un ragazzo di accademia specializzato in queste cose che forse è anche online ma c'è un mercato florido ci sono quanti imprenditori hanno bisogno davvero di un ritratto e quanto sono disposti a pagarlo ok quindi in questo caso l'analisi del mercato mi porta a dire il ritratto business può essere una strada terza scheda da compilare è questa scopri l'opportunità c'è network e area geografica nel ritratto business che mi dà la possibilità perché ci sono persone che lo vogliono sono disposta a pagare e sono abbastanza da creare un mercato florido quali sono le opportunità conosco persone che mi possono aiutare a trovare clienti fra i miei amici c'è qualcuno che è in quel mercato e c'è qualcuno che ha bisogno dei miei servizi perché potrebbe essere la prima persona che mi permette di fare portfoglio perché conosco un imprenditore che ha bisogno di foto vado da Simone Poletti gli dico ma se io ti faccio una sessione di foto gratis tu mi pubblicizzi mi posso usarle per il portfoglio vai da uno che ha un grande pubblico questo ti dice guardate che cazzo di foto fighissime mi ha fatto Valerio Valerio mi ha fatto delle foto spettacolari ok e ti aiuta a trovare altri clienti questi potenziali clienti questi imprenditori che hanno bisogno di foto che luoghi frequentano luoghi possono essere fisici o virtuali perché io devo andare lì perché devo conoscerli e fare network quindi sono agli eventi per imprenditori fantastico io sono un fotografo sono un imprenditore mi iscrivo a uno di questi eventi e poi faccio network tanto durante le pause cosa succede ciao sono Antonio ho un'azienda che fa inferiate ciao sono Marco ho un'azienda che fa mascherine sto facendo più 800% di fatturato tu cosa fai ciao mi chiamo Valerio faccio il fotografo e fotografo imprenditori fotografi imprenditori per permettere di comunicare al meglio la loro immagine cavolo potrebbe essere che fra tutti gli imprenditori presenti a quell'evento per imprenditori ci siano dei clienti ok magari partecipi a un corso un corso di marketing a un certo punto uno dirà il trainer dirà avete bisogno di immagini avete bisogno di fotografie di ritratti tu cosa fai il ritrattista di imprenditori e boom che trovi dei clienti a me è capitato a un corso a un master in marketing di sentirmi chiedere di far video da praticamente tutta la gente che c'era lì ma mi fai il video ma mi fai il marchio ma mi fai questo tu che sei bravo a fare i video me lo fai no perché non è il mio mestiere ma c'era un videomaker che ha raccolto clienti quindi luoghi fisici e virtuali dove si trovano gli imprenditori valli a cercare nei canali di quelli che magari fanno marketing o fanno gestione di impresa nella teoria geografica nella tua zona esistono imprenditori che hanno bisogno di un ritratto valli a cercare quel lumicino valli a guardare guarda che foto hanno le foto sono belle o è meglio o possono essere migliorate poi li vai a cercare li vai a prendere questo tutti questi sono cose che puoi fare adesso non aspettare di ripartire per quello dicevo chi adesso si prepara poi avrà delle possibilità tu puoi incominciare a parlare con i tuoi imprenditori con i tuoi potenziali ritratti i soggetti da ritratto adesso adesso gli puoi già incominciare a parlare l'ultima cosa è scopri il tuo cliente ideale una volta che ho deciso che voglio fare ritratto business scopro quali sono i miei clienti ideali e vado a creare delle sorte di rami di clienti ideali come faccio a capire chi sono i miei clienti ideali posso fare delle ipotesi ok quindi chi sono i miei clienti ideali sono degli imprenditori sono dei personaggi pubblici sono dei professionisti nel campo della comunicazione cioè professionisti che hanno bisogno di comunicare ok ce ne sono tanti possono essere attori possono essere tanti politici ok tutti hanno bisogno di un ritratto bene vado a tirar giù per ogni tipologia di cliente diverse cose l'età media la condizione economica quindi la disponibilità economica dove si trovano da dove vengono nord e sud uomini donne maschi femmine eccetera eccetera una serie di cose in questo modo io mi faccio un'idea chiara di chi sono le persone alle quali devo comunicare una volta che so a chi devo comunicare cosa gli serve cosa io gli posso dare diventa molto più semplice contattarli ed essere efficaci posti il pdf nelle domande no tommaso di più questo pdf insieme a un video che spiega come usarlo insieme a un altro video che parla di specializzazione sono un nuovo corso gratuito che avrete a disposizione da domani domani vi mettiamo il link per potervelo scaricare per potervelo guardare così fate i vostri esercizi avete il video che vi spiega esattamente come utilizzare questo pdf questo file queste schede per ottenere il miglior risultato possibile vi piace? cosa intendo per ritratto business intendo il ritratto di persone che usano il ritratto per lavoro ok che può essere qualsiasi cosa ragazzi anche un un domatore di leoni ha bisogno anche se io credo che il circo senza animali sarebbe meglio ma lasciamo perdere queste guerre di opinione un trapezista ha bisogno di un ritratto cavolo fra l'altro sarebbe fighissimo fare ritratto a un trapezista sarebbe una cosa meravigliosa sarebbe veramente figo ok vedo un sacco di ditoni spero che siano cose che vi renda felice il fatto di avere il videocorso gratuito con tutte con tutte le schede bene prego ve l'avevo detto che c'era una sorpresa la sorpresa è questa ok sulla prosperazione di gioia andiamo un po' più lunghi ciao vanda buon compleanno auguri allora bene bene quindi incomincio da lì no in questo periodo in cui ragazzi io non so voi io sono stato mezza giornata a non fare niente ok perché ho detto cavolo vi ricordate la domenica che non abbiamo fatto lezione di marketing ho detto io sta domenica non faccio un cazzo mi è venuto mal di schiena mi è venuto mal di testa io non ce la faccio a non fare un cazzo quindi piuttosto vengo qua a fare delle foto ma comunque fra l'altro adesso c'è tantissimo da lavorare per quella totale quella innovazione totale che stiamo mettendo in piedi che presto scoprirete e quindi ho un sacco da lavorare ma stare a fare un cazzo sul divano dopo un poche due palle fate i fotografi non fate i formai io vedo un sacco di gente che fa la pizza bello ma la pizza la si può comprare da sport e durante la giornata oppure mentre aspetto che la pasta lieviti faccio il mio lavoro che è quello di fare il fotografo se sei un fotografo professionista prima di tutto sei un imprenditore a me la parola imprenditore sulla carta d'identità mi fa un po' paura devo dire la verità perché cosa fai nella vita il ritoccatore non è vero in realtà sono socio di diverse aziende teoricamente sono un imprenditore mi viene un po' da ridere a dirlo l'imprenditore vero credo nella nostra società sia Andrea per fortuna che è molto bravo a fare questo però di fatto avete un'impresa una piccola impresa stare lì fermi ad aspettare e incazzarvi perché vi arrivano non varivano i 600 euro è un problema se aspettate di ripartire sperate che qualcuno faccia per voi il lavoro di far ripartire un settore ragazzi scordatevelo a me dispiace però scordatevelo completamente io ho visto in questo periodo un sacco di gente fare dirette un sacco di gente fare cose sui social bene dal mio punto di vista ve lo dico ho partecipato anche a dirette di amici ho partecipato alle dirette che ho trovato utili perché c'è un sacco di gente che fa delle chiacchiere chiacchierate chiacchierate fra fotografi che utilità hanno sì ok passo il tempo bello guardo la chiacchierata mi piace ma che utilità hanno io voglio essere utile perché se sono utile le persone se lo ricorderanno ma non solo passo meglio le mie giornate passare le mie giornate a fare delle chiacchiere a fare della pizza bello cazzo tanto non ne ho bisogno di mangiare dell'altra pizza però il mio mestiere è un altro non è che perché c'è il lockdown o chiamatela come vi pare il mio mestiere non è più quello di fare il formatore il mio mestiere è quello di fare il formatore di aiutare le persone a sviluppare il loro potenziale sviluppare il vostro potenziale in questo momento vuol dire alzare il culo dal divano e incominciare a progettare la mia strategia di marketing e incominciare a metterla in atto perché è fondamentale incominciare a capire qual è la mia specializzazione e incominciare a metterla in pratica contattando le persone guardate che gli imprenditori che hanno bisogno delle vostre fotografie in questo momento gli sposi che non sanno quando si sposeranno ma si sposeranno in questo momento hanno bisogno di voi hanno bisogno anche solo di sentirsi rassicurati hanno bisogno di sentirsi dire ciao secondo me quando appena possiamo ci possiamo vedere per una sessione di ritratti perché bisogna ripartire con uno spirito totalmente diverso ancora più carico e secondo me le tue foto devono comunicare la carica e la voglia di fare grandi cose che hai quindi io pensavo se ti va appena è possibile di venire in azienda da te e far quattro chiacchiere per una sessione di ritratto guarda ti voglio dare una mano organizziamo una cosa facciamo una sessione di ritratti per te e una sessione di ritratti per tutti i tuoi manager i ritratti per te te li regalo perché voglio aiutarti a ripartire ok che ne so adesso regalare la roba è sempre meglio di no però ok non avendo mai fatto nulla non avendo mai fatto nulla credo che la prima strada sia iniziare prima accademia e poi tu che ne pensi allora accademia in accademia oltre a parlare di post quello che faccio è darvi dei calci in culo detta in maniera molto molto semplice quindi vi chiederò dall'inizio di incominciare a strutturare un vostro progetto quindi sì accademia è un inizio assolutamente e di solito accademia serve anche per chiarirsi le idee ci sono tantissime persone che sono entrate in accademia con un'idea e ne sono uscite con un business diverso che in molti casi ha funzionato te l'abbiamo tirata di bocca beh l'avrei detta comunque ok fra l'altro proprio per il mai fermi vi dicevo all'inizio in questo periodo abbiamo lanciato tre videocorsi il primo è montaggio con Paolo Baccolo il video può essere una strada molto interessante perché se volete sapere dove va la fotografia la fotografia è digitale ragazzi è digitale che senso ha un'immagine statica oggi su internet sì ha senso assolutamente al 100% le continuiamo a usare anche noi ma la possibilità dell'animazione cinemagraph animazioni sulle immagini video è una potenzialità incredibile a livello di comunicazione quindi la strada è quella e abbiamo lanciato un altro videocorso che è fotografia di prodotto con Giorgio Cravero che adesso Federica vi posta è un videocorso fantastico con un Asblad Masters della fotografia di prodotto uno che ha vinto il premio forse più importante del mondo per quelle cose che vi porta in studio e vi fa vedere due scatti di prodotto dall'inizio alla fine analizzando tutto è veramente un corso fantastico adesso Fede ve lo posta li trovate tutti in promo come tutti i nostri corsi di post torno a voi io ieri ho tentato uno still life bravo dai coraggio a proposito di ritratto puoi postare il link dei corsi di ritratto Fede se ce li hai posti il link dei corsi di Nick se ce li abbiamo anche senza link specifico così li possono li possono vedere le chiacchierate fra fotografi sono molto importanti per scambiarsi opinioni pareri storie e esperienze assolutamente fondamentali non sto dicendo che sono inutili sto dicendo che in questo momento che comunque l'utilità per te che hai bisogno di ripartire è un po' stridente bello importantissimo scambiarsi opinioni pareri storie ed esperienze assolutamente sì ma quanto ti può aiutare il grande fotografo che parla la sua arte a capire cosa devi fare in questo momento secondo me è da vedere è una mia opinione però io non sto dicendo che le chiacchierate fra fotografi sono inutili ne ho fatto anch'io le chiacchierate il problema è secondo me ce ne sono troppe tutti quanti chiacchierano però qua c'è bisogno di fare qualcosa di mettersi in moto ok contatto con i clienti fino a che punti visto ancora al momento non so se mi sono spiegata contatto con i clienti può voler dire Anna scrivere un'email a un tuo cliente e chiedergli come va posso fare qualcosa per te ti posso dare la mano devi far ripartire il tuo business diciamo così che cosa posso fare io per te ok magari facendogli delle proposte un altro ottimo modo in questo periodo per capire su quali clienti focalizzarsi è cercate i dieci migliori clienti che avete mai avuto quelli che vi hanno fatto dire ah fossero tutti così fossero tutti così i miei clienti che bello che sarebbe ecco prendete i vostri dieci migliori clienti per noi possono essere quelli di accademia per esempio o alcune delle persone che sono qua in diretta e gli chiedete ascolta ma cosa posso fare per te cioè spiegami due cose primo perché mi hai scelto perché hai scelto me o non un altro ma questo vuol dire li chiamate li telefonate li telefonate gli dite ciao sono Anna avrei voglia di fare quattro chiacchiere hai tempo intanto può essere che da quella cacchierata esca un altro lavoro con quel cliente ma poi cosa succede perché mi hai scelto perché hai scelto me o non un altro qual è la cosa che ti è piaciuta di più del lavoro che abbiamo fatto cos'è che non ho fatto e che invece ti sarebbe piaciuto avere cos'è che ti è mancato nel mio servizio così incominciate a capire tante cose incominciate a capire quali sono i vostri punti di forza se quel cliente avrebbe voluto qualcos'altro e voi non l'avete fatto magari glielo potete proporre cavolo sai che non ci ho pensato e avrei voluto però avere anche i file già tagliati per i social cavolo sai che non ci avevo pensato hai ragione te li mando e intanto ve li tenete caldi e felici ok quindi parlate con i vostri migliori clienti assolutamente chiedetegli cos'è che gli è piaciuto nel lavoro che avete fatto cos'è che avreste potuto fare meglio qual è il motivo per il quale vi hanno scelto e magari chiamate anche quelli che invece vi hanno sfanculato quelli che vanno detto no 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 io lo dono a un altro non mi è piaciuto quelli con cui avete litigato li chiamate e dici senti sai è andata male mi è dispiaciuto onestamente vorrei capire perché non mi hai scelto perché hai scelto un altro perché non ti è piaciuto quello che ti ho proposto imparate un sacco di cose molto molto utili ok credo che trovare la propria strada sia essenziale ma c'è un altro aspetto molto importante come capire che prezzi fare una persona che deve iniziare non ha idea di che prezzi sono in giro nei vari settori vero che bisogna tenere conto delle proprie spese e metterci del margine ma come faccio a sapere che sono competitivo magari fuori mercato ti informi sui prezzi del mercato Andrea cioè se io voglio fare il matrimonialista faccio un'indagine intanto devo conoscere il settore quindi per conoscere il settore devo fare un'indagine quindi mi metto lì e vado da tutti i miei amici che si sono sposati negli ultimi cinque anni e gli chiedo ma chi ti ha fatto le foto? ma quanto hai speso? ma com'è andata? ma che servizi ti ha offerto? ma com'è funzionato? sei andato là a fare un appuntamento? poi informati fai insider trading davvero senza ovviamente c'è anche chi fa quelle robe finte del tipo fingo di dover fare un matrimonio così vado all'appuntamento e vedo come lo vendono ecco quelle cose lì magari no ma se hai degli amici che si sono sposati o amici di amici gli chiedi ragazzi posso intervistarvi dieci minuti sulla vostra esperienza gli chiedi cosa gli è piaciuto e cosa no e così sai cosa devi fare tu per piacergli no? guarda che è importantissimo questo soprattutto per uno che fa tipo il fotografo di matrimonio vuole lanciarsi sul mercato qual è il prezzo di mercato? il prezzo medio di mercato è 1.500 compreso questo questo e questo ok? a me è piaciuto abbiamo fatto un bel appuntamento però non mi è piaciuto che mi ha dato l'album un anno dopo ok? ti impari un sacco di cose su quello che conta davvero per i tuoi potenziali clienti più ne intervisti e meglio è ieri ho visto la diretta di un bravissimo fotografo di Glamour mi è scaduto di brutto spiega una post su photoshop veramente maccheronica allora ecco io qua Andrea capisco però ti dico la mia e non c'entra niente col discorso quindi è solo una pausa poi dopo ne parliamo torniamo a parlare di quello di cui parlavamo prima che è più importante se un fotografo professionista bravissimo a scattare ha il suo modo di fare post che magari è per la mia visione del mondo tecnicamente sbagliato io non imparo la post da lui ok? però se per lui funziona va benissimo ragazzi va benissimo ho visto fotografi negli ultimi tempi guardando dirette che facevano vedere anche le loro post che facevano delle robe che tecnicamente mi facevano rabbrividire ma il risultato funzionava ecco non dovrebbero insegnare post perché insegnano un metodo sbagliato non le tecniche un metodo sbagliato ma il loro risultato è ok quindi per me è assolutamente ok ne hanno il diritto assolutamente nel frattempo Federica vi ha postato il link a fotografia di still life prodotto Vivi in Ciociarie in un paese di 13.000 abitanti i fotografi che ci sono lavorano al 95% con cerimonie gli altri settori sono quasi morti i paesi nei dintorni sono poco più grandi ma poche persone investono e pagano per una foto un buco un servizio in azienda come consigli di affrontare l'apertura nello studio fotografico il mio obiettivo sarebbe sia matrimoni ma anche materniti e newborn allora Daniele io ti do tre consigli prima di tutto uno non aprire uno studio fotografico non aprire uno studio cioè non aprire un negozio è chiaro che se vuoi andare sui matrimoni e sul newborn lo stile classico è quello del negozio tutti i fotografi tutti i fotografi veramente con i controcazzi che conosco giovani che sono usciti nel matrimonio negli ultimi anni a partire da Gloria Soverini che è una ragazza che collaborava con noi e che adesso è una fotografa matrimonialista bravissima fa dei lavori della madonna Gloria non solo non ha uno studio vende praticamente tutto su Instagram ok? quindi non hai bisogno di uno studio perché? ti dico questo abbassa le spese se devi prendere un negozio sono spese fisse tutti i mesi se devi aprire uno studio sono spese fisse tutti i mesi ok? lo studio non lo leggi lo studio te lo fai in casa lo studio te lo fai in una stanza fai quello che vuoi ma cerca di abbassare le spese se punti a matrimoni maternity e newborn la mia domanda è faccio una domanda preferisci clienti della tua zona o clienti di tutto il mondo che vengono a fare un matrimonio in ciosaria tu hai una possibilità di location e di ambientazione naturalistica nella tua zona meravigliosa proponi il proponiti come il matrimonio il matrimonialista in ciosaria per clienti di tutta Italia e di tutto il mondo mettiti d'accordo in collaborazione con due o tre location che fanno questo trova una wedding planner che sia interessata a fare questo lavoro in quella zona e ognuno fa da volano agli altri e proponi non il matrimonio ai ciociari ma il matrimonio fotografato il matrimonio in ciociaria fotografato dal fotografo della zona potrebbe essere una strada però non ti serve uno studio non ti serve un negozio col negozio prendi i clienti che passano per strada e se dici che ci sono 13.000 abitanti e i fotografi ci sono già che lavorano il 95% con i matrimoni o quelle cerimonie sei in un ambiente iper affollato sei quello che in un altro bel libro di marketing che si chiama strategia oceano blu è un laghetto rosso di sangue perché ci sono tutti gli squali che si azzanano per lo stesso pesce ecco ti ho fatto questo esempio perché ci sono i fotografi che quando destination photography andano in giro per il mondo ma ci sono anche fotografi fantastici come Cristiano Stinelli che è the lake como wedding photographer cioè prende tutti quelli che vogliono sposarsi al lago di Como magari la ciocciaria potrebbe essere una zona interessante nel quale portare gente a fare matrimoni ciao Matteo questo momento sto facendo still life corso di ritratto con flash as little Nicola Montanari stupendo e utilissimo grazie mille vediamo se federeci a trovare i link se uno non ha mai avuto clienti cosa suggerisci allora dipende dal settore nel quale ti vuoi buttare però intervista potenziali clienti fai delle ipotesi cioè io dico voglio fare il fotografo di still life prodotto chissà i miei clienti le aziende che producono quelle robe le agenzie che hanno come clienti quelle aziende e magari i web store che vendono oggetti di design faccio delle ipotesi grazie Matteo quali sono le misure per i tagli per i social manda google c'è una cosa che si chiama google fantastica che dice misure delle foto per instagram misure delle foto per facebook perché cambiano ogni mese quindi ti conviene cercarle direttamente da lì io ad esempio negli ultimi anni sto perfezionando il light painting su nature morte sulle persone ho diverse mostre ho stampato su tela eccetera eccetera ma ritrovo in questi anni è stato veramente demoralizzante allora il problema è Stefano che il light painting sulle nature morte e sulle persone che mercato ha va bene fai le mostre ok fai l'artista però come artista ragazzi pane duro e cipolla per un sacco di anni ve lo dico anche per esperienza e per esperienza dei tanti amici artisti che ho ma pensa un attimo prima a quali sbocchi commerciali può avere il light painting sulle nature morte e sulle persone c'è una persona che è disposta a pagare 1500 euro al giorno per un servizio di ritratto in light painting pensaci c'è una persona disposta a pagare 1500 euro al giorno per un servizio di ritratto o business di qualità più di una e anche di più non sempre te lo dicono cosa Davide perché non ho capito a cosa ti riferisci non sempre te lo dicono lo assicuro per esperienza sui prezzi di Tauvisual si ok che puoi indirizzarti è vero ci sono dei prezzi medi interessanti specifico con un locale di mia proprietà già quasi allestito con attrezzatura comprata da tempo ok allora quello è un costo zero e va bene ok però il negozio ti serve davvero cioè sono quelli i clienti che ti servono magari uno studio ok fantastico magari uno studio nel quale fai gli appuntamenti con i clienti ma ti serve una vetrina con le tazze le cornici cioè vuoi davvero diventare un altro se c'è qualcuno che lo fa se si offende mi dispiace ma non lo faccio davvero con cattiveria è quello che penso ve lo dico molto onestamente con tutto il rispetto infinito e l'ammirazione per chi porta avanti un negozio in questo momento che è una cosa difficilissima vuoi davvero diventare un altro di quelli che vendono le tazze dei cornici qua tutti i negozi di fotografie ci sono non aziende se non ci sono aziende devi andare a cercarle fuori se ci sono tutti i negozi di fotografia ok perché fare uguali agli altri magari quello che serve è andare oltre parlavamo poco tempo fa con una delle ragazze che è allieve del nostro percorso per la creazione e la gestione del business e la promozione nella fotografia academia 3 parlavamo con una delle ragazze che diceva io faccio newborn faccio queste foto con questi abiti classici perché tutti i convegni di fotografie newborn a cui sono andati fanno tutti questo fantastico perché fai le stesse cose che gli altri fanno già da anni fai delle cose diverse fotografa il newborn in maniera molto più casual perché le donne in casa non si mettono un abito settecentesco col pancione sono in jeans e sono fighissime in jeans e maglietta fotografale così come sono in casa fai diverso da quello che fanno tutti gli altri ti crei una nicchia ti crei un pubblico tutto tuo ti crei uno stile se non hai un negozio studio per colloqui con i clienti dove li fai? al bar? al bar al ristorante nei locali a casa loro dove vuoi? dove vuoi? ragazzi ne conosco davvero tanti di fotografi che non hanno uno studio e vanno a fare i colloqui a casa delle persone o hanno un taglio estremamente informale come persone e fanno i colloqui durante gli aperitivi perché no? non vi serve uno studio poi davvero ragazzi pagate l'affitto mille euro 500 euro di uno studio di un negozio per fare i colloqui con i potenziali sposi cazzo dovete farne tanti scusate se sono diretto vi posso anche star sul cazzo non è un problema non ho l'ambizione di essere simpatico a tutti vi dico quello che penso che non è detto che sia giusto lo dico mi rendo conto in maniera piuttosto assertiva perché sono molto convinto di quello che dico non è detto che sia giusto non ho la verità in tasca ma quello che dimostrano questi anni è che avere un negozio avere uno studio è una spesa che vi taglia le gambe lavorate per pagare l'affitto lavorate per pagare l'affitto non vi serve uno studio e un negozio per fare i colloqui potete farli ovunque ok? li potete fare in un co-working affittano le sale riunioni ragazzi a Milano c'è uscite dalla stazione centrale di Milano a destra c'è una torre di 12 piani solo di sale riunioni in affitto quindi volendo in quasi qualsiasi grande cittadina c'è un co-working che affitta sale riunioni oppure vi mettete d'accordo con il più bel locale il più bel locale del vostro paese che abbia una saletta tipo sala da tè eccetera vi mettete d'accordo col proprietario gli dite ascolta ma se io vengo qua a fare i miei colloqui tu mi tieni un tavolo io ti avverto due giorni prima mi tieni un tavolo un po' appartato un po' tranquillo un po' rilassato voi fate bella figura perché il locale è figo pagate voi investite questa cifra e contemporaneamente il tipo del locale ci guadagna le consumazioni io cerco di darvi delle idee poi io sto utilizzando questo periodo per rifare il mio portfolio ok segui i consigli di Giorgio grande meglio eseguire uno stile personale per gli scatti andare su sicuro e mantenere uno stile classico e standardizzato dipende da quello che vuoi ottenere se vuoi lo stile personale deve comunque rispondere alle esigenze in un mercato lo stile ricordatevi sempre una cosa non fate cambiare idea alla gente la gente compra quello che gli piace quindi quali settori suggerisci con più sbocchi al giorno d'oggi anche in considerazione del post covid bella domanda se sapessi quali settori hanno successo farei un ebook che dice questi sono i settori che avranno sicuramente successo lo venderei a 5.000 euro a parte gli scherzi ti dico quello che di cui ho discusso anche con persone come Daria Bonera che fa la gente e ha un occhio molto molto intelligente e acuto e i settori sicuramente a più sviluppo almeno prima del covid ma credo anche dopo più importanti rimangono la fotografia di prodotto perché serve sempre e comunque fino a quando ci sarà qualcuno che fa prodotti ci sarà qualcuno che li deve fotografare la fotografia pubblicitaria real life cioè le cose del tipo la famiglia che fa la grigliata avremo tutti quanti voglia di normalità quindi avremo tante campagne pubblicitarie con persone che vivono la vita normale ok quella che vogliamo tutti ok quindi lifestyle fotografia pubblicitaria lifestyle fotografia di prodotto fotografia di interni perché comunque c'è un mondo in quel senso fotografia di moda ce n'è ancora e ce n'è bisogno ritratto nell'area business e piccoli professionisti dove potrei io Davide ho bisogno che tu mi faccia delle domande più ampie perché dove potrei migliorare per piacergli ancora a chi scusami ma purtroppo devo staccare e riattivare il cervello tutte le volte che mi hai fatto una domanda e magari andare a riprenderli non ho capito la domanda ancora mi dispiace rifammela intera ragazzi ho uno studio con stanza accoglienza clinica e se la posa perfetto se non è una spesa in più va bene te la metto te la butto lì un'altra se lo affitti ci fai più soldi o meno scusa se sono stronzo ma la butto lì in questo momento affittare un locale è abbastanza difficile quindi va bene faccio lo studio avete un corso di ritratto business abbiamo sei corsi di ritratto il ritratto è il ritratto poi c'è anche il ritratto business fra quegli scatti ok io incontro gli sposi nei bar vedi penso che se lo dici sai benissimo che funziona questo mondo io ragazzi quello che dico è la mia opinione poi in questo mondo ci lavoro dal 1990 dal settembre del 90 il copernico bellissimo bar industrial ragazzi ci sono dei locali della madonna ma non è quello il punto lo potete fare dove volete un appuntamento pensate un attimo dipende da come vi proponete se siete super classiconi allora forse vi serve lo studio con gli album eccetera eccetera ma io conosco fotografi che lavorano che fanno decine di matrimoni all'anno che non stampano più un album non stampano più un album danno qualche stampa delle foto migliori la chiavetta con le foto cioè ormai è cambiata tanto e a livello di approccio un fotografo giovane con delle idee giovani con delle idee fresche ce lo vedete seduto sulla poltrona dello studio con intorno le foto incorniciate con il televisore che manda le foto no poi c'è anche quello è giusto che ci sia anche quello c'è gente che cerca quello ma dipende dal vostro target se fotografate dei ragazzi giovani freschi svegli magari anche con dei soldini forse se gli andate a casa gli fate un favore ok c'è chi ha dato la marsarda io sono alla ricerca di una casa più grande per avere uno spazio più grande per lo studio adesso fotografo in una stanza di 9 metri quadri ma l'idea dei negozi di vetrina non è proprio nel mio stile ok fantastico come fare a vendere bene i servizi su instagram e facebook ci sono una serie di caratteristiche non ne parliamo oggi perché tanta roba sicuramente devi avere una coerenza devastante in quello che posti devi essere molto puntuale molto cadenzato cioè devi postare in continuazione devi lavorare bene con delle belle foto e devi avere pazienza perché il primo anno i primi due anni avrai seguito soltanto da altri fotografi poi dopo piano piano arrivano i clienti Fiorella dice posso confermare dopo anni di studi in affitto che ci si sente molto più liberi senza uno studio dove lasci l'anima in affitti e poi magari la maggior parte dei lavori si eseguono fuori studio e fai le nottate a casa al computer per finire la post al di là di questo ti ringrazio per il contributo non perché mi dai ragione ma per il contributo se c'è qualcuno che ha un'opinione esattamente opposta un'esperienza opposta la leggo uguale mi capita sempre più spesso di avere a che fare con fotografi fotografi professionisti pubblicitari di altissimo livello che mi dicono sto vendendo lo studio perché tanto ho lo studio ma scatto costantemente in giro per il mondo che me ne faccio lo studio è un costo stavo seguendo una diretta con Diletta Leotta ora seguo te sicuramente più bella da vedere Diletta Leotta non so cosa stessi dicendo ma non ti togliere la registrano o la diretta con la Leotta perché se la diretta Leotta se la registrano allora ok guarda me ma se non la registrano la nostra registrata guarda la Diletta Leotta assolutamente che ti lucidi un pochino gli occhi e poi dopo guardi la mia registrata ciao ma a me piace analizzare il lavoro degli altri secondo te in quale mercato inteso come altro paese ci sono degli spunti da portare in Italia oddio allora in tutti nel senso che l'Italia è a livello pubblicitario un paese del terzo mondo non è un'offesa cioè siamo clamorosamente indietro non vinciamo un Clio che è l'Oscar alla pubblicità da tantissimi anni e siamo clamorosamente indietro c'è gente brava ma la media è terribile in nessun'altra parte del mondo come in Italia fanno gli spot dei detersivi con l'anatra che vola e quelle cagate quindi diciamo che in giro per il mondo ci sono tante tanti paesi da guardare io credo che ci sia io ho sempre avuto l'Inghilterra come punto di riferimento perché gli inglesi sono estremamente ironici estremamente bravi fanno delle campagne sociali che spaccano il culo e guarda caso alcuni dei fotografi più importanti d'Europa sono a Londra ok quindi io guarderei con molta attenzione lì perché c'è tanta roba tanto molto 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 figa in generale Nord Europa molto molto interessante trovo per esempio la Germania molto interessante per l'architettura gli esterni gli interni ci sono dei fotografi che fanno delle cose bellissime ci sono fotografi di still life praticamente in tutta Europa ma i più bravi inglesi secondo me quale corso di ritratto tra i tuoi andrebbe meglio per mammi in attese ritratti di bimbi i corsi di ritratto non sono divisi per argomento mamme bimbi eccetera ma per utilizzo delle luci usi flash c'è un corso sui flash in studio che fa ritratto col flash in studio usi flash a slitta c'è un corso con il flash a slitta usi luce naturale c'è un corso in esterna o c'è un corso con luce fissa guarda la fede sta incominciando a postare i ritratti cosa ne pensi del mercato della fotografia decorativa quindi artistica e astratta allora dipende di cosa stiamo parlando entro in questo discorso lo smaltiamo in dieci minuti poi ci poi chiudiamo la fotografia artistica se si parla d'arte quindi voglio fare il fotografo d'arte è un mondo molto difficile perché devi creare un grande portfoglio parlare con i galleristi eccetera eccetera per arrivare a un livello tale che questo ti possa mantenere bisogna diciamo capire quelle che sono le logiche del mercato dell'arte che in questo momento non ne parliamo oggi perché sennò apro una polemica infinita ma in questo momento le logiche del mercato dell'arte sono molto particolari e molto simili a quelle dei bond argentini ok se invece si parla di fotografia decorativa nel senso stampo le foto vendo le foto stampate su tela o meno secondo me è un business molto molto piccolo che ti costringe a vendere tantissimo per guadagnare molto poco quindi è un mercato secondo me un po' da noscioline mettiamola così devi vendere tanto 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 il settore della fotografia paesaggistica cosa ne pensi è un settore più in difficoltà rispetto a quelli citati poco fa allora il settore della fotografia paesaggistica non produce un euro da un sacco di anni i fotografi paesaggistiche guadagnano abbastanza per mantenersi fanno dei workshop che molto spesso non potrebbero fare e fanno e alcuni hanno rapporti con aziende ci sono dei fotografi del stesso Francesco che è uno molto bravo ha rapporti con aziende e quindi qualcosa capitalizza da quello qualcosa capitalizza dalla vendita per le foto pubblicitarie eccetera però diciamo che è un settore nel quale guadagnare dei soldi è difficile mantenersi diventare ricchi è molto 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 difficile ok grazie per i complimenti a Flavio ti ringrazio belli corsi Nicola Montanari sul flash grazie la fede li sta postando tutti e grazie a Fabio che ci segue alla diretta con Nisi ok ragazzi io direi che anche oggi abbiamo fatto la nostra ora e un quarto mi piace molto l'interazione che abbiamo avuto oggi spero di aver ridato delle risposte ci sta che vi abbia detto qualcosa che non vi è piaciuto è normale assolutamente mi dispiace se ho distrutto i sogni di qualcuno spero di no ma parlando di guadagni si può arrivare a guadagnare discretamente bene o solo a mantenersi dove dove nella fotografia di paesaggio secondo me a guadagnare poi dipende sempre cosa intendiamo per guadagnare discretamente bene allora se parliamo di fotografia di moda c'è stato un periodo nel quale alcuni fotografi di moda i top prendevano diverse decine di migliaia di euro ok se parliamo di fotografia di still life o di moda adesso comunque un fotografo medio prende 1500 2000 2500 euro al giorno quando lavora ma non lavora tutti i giorni ovviamente quindi sì si può arrivare a guadagnare molto bene non si possono fare workshop perché Marco la risposta è molto semplice per fare formazione ci vuole un codice a teco specifico cioè con una partita IVA da architetto non puoi fare il fotografo con una partita IVA da fotografo non potresti fare corsi poi lo fanno tutti e non è un problema te lo dico molto onestamente non è un problema non mi interessa noi siamo un'azienda che fa formazione abbiamo un brand che fa formazione abbiamo un codice a teco visto che sono andati molto di moda ultimamente che riguarda l'istruzione e nella nostra nel nostro stato sociale nella nostra stato costitutivo c'è scritto che facciamo formazione vendiamo video c'è scritto tutto e facciamo solo quello che possiamo fare ci sono tante persone che hanno una partita IVA da commercialista e fanno altro o con una partita IVA da fotografo dovresti fare il fotografo poi è chiaro che se nello stato costitutivo della tua società individuale c'è scritto che fai fotografia e corsi di fotografia va benissimo però a quel punto avrai diversi codici a teco ci sono tanti fotografi che hanno una partita IVA da fotografo e che fanno formazione non è un problema lo ripeto non è un problema però e poi ci sono anche quelli che e qua era venuto fuori un discreto casino organizzano viaggi fotografici e quello proprio non puoi farlo perché devi essere un tuo operetto e lì si va su cose molto più pesanti perché lì c'è un problema di assicurazioni eccetera puoi dirmi in due parole cos'è ZOT gli ZOT sono questi gli ZOT sono delle schede che hai fisiche virtuali e elettroniche quindi fisiche stampate con il loro raccoglitore e elettroniche in PDF sono schede che hanno all'interno delle strategie e delle tecniche specifiche quindi ci sono alcune schede diciamo strategiche alcune di istruzione sul colore su altre cose altre che hanno delle tecniche vere e proprie passo per passo con ogni passo e ogni scorciatoia da tastiera per arrivare al punto ok in alcune c'è un QR code con un video nei PDF c'è un tasto la premere che ti porta direttamente sul video questi sono gli ZOT sono una settantina di schede con tecniche strategie tecniche per la post in generale per Lightroom Captroom ma soprattutto tecniche di Photoshop questi sono gli ZOT ok viva la franchezza io ragazzi mi dispiace sono totalmente trasparente esatto come per i viaggi organizzati vedi Marco che ci siamo arrivati e quindi con cosa si diventa ricchi continuando a fare il fotografo intendo beh scegliendo un settore che ti dia delle possibilità ma soprattutto secondo me specializzandoti diventando il migliore o uno dei migliori nel tuo campo e facendo un marketing fatto molto bene comunicando molto molto bene quello che fai marketing non vuol dire vendere alla gente della fuffa marketing vuol dire rispondere alle esigenze di un cliente e se il tuo prodotto risponde alle esigenze di quel cliente è importante che il cliente lo sappia mi spiego se io ho esattamente il corso che ti serve che tu stai cercando da anni come diceva prima ho fatto mille corsi finalmente ho trovato quello giusto il problema è che io non ho comunicato abbastanza bene se lui ha fatto mille corsi prima di prendere il mio se trovo della gente che viene a Photoshop sprizzi e mi dice oh finalmente ho capito Photoshop ho fatto dieci corsi non ci ho mai capito un cazzo sono arrivato a Photoshop sprizzi e adesso finalmente ho capito e finalmente mi hai aperto un mondo fantastico io devo essere molto bravo a far capire alle persone che io ho quella risposta che loro stanno cercando questo è marketing non vendere fuffa ma vendere bene quello che effettivamente dai io oggi ho fatto il figo con gli amici dicendo che so fare un tondo con solo le quattro maniglie grande grande fantastico vi hanno postato anche gli Zot ragazzi grazie ti ringrazio è previsto uno Zot per il video non te lo dico adesso però hai già capito la risposta grazie ragazzi l'ultimo corso sul Flash Fede lo dovreste avere già postato in realtà c'è già ritratto col Flash a slitta se vuoi ripostalo ancora grazie domanda consiglio per il portale rendere disponibili i vecchi corsi anche sul portale oltre che per il solo download in modo da avere tutta la portata di click alcuni ci sono Tommaso altri no perché verranno semplicemente eliminati quindi alcuni dei vecchi corsi vengono eliminati sul nuovo portale ci saranno quasi tutti ma una serie di corsi che ormai vengono sostituiti da quelli nuovi verranno totalmente eliminati dall'offerta quindi non li carichiamo sul nuovo portale mi dispiace quale link non funziona Stefano così Federica ti può aiutare ok ragazzi grazie mille per l'attenzione lunghissima diretta anche oggi mi fa piacere che l'argomento vi interessi l'ultimo vi devo l'ultimo videocorso realizzato in questo periodo che è quello intanto Fede vi ha ripostato ritratto con un flash che è quello uscito da pochissimi giorni in realtà ieri o ieri l'altro che è fotografia fashion fashion photography con Marco Nofri un corso fantastico tutto dedicato alla fotografia fashion un settore molto importante nel quale credo avere la possibilità di entrare su un set e vedere come lavora un professionista e come lavora tutto lo staff perché c'è il lavoro di tutto lo staff sia assolutamente importante quindi fotografia fashion photography con Marco Nofri è l'ultimo corso che abbiamo lanciato in questo periodo grazie hermano maestro i maestri sono altri io sono un artigiano e cerco di fare il mio lavoro il meglio possibile vi do una grande notizia fotografico ti ringrazio Lucas mi piacerebbe grazie comunque l'ego ringrazia fashion sì sì fashion arriva fashion arriva il link degli Zot l'hanno già postato Maurizio lo trovi sopra eccolo qua la Fed ha postato anche il corso di fashion fotografia fashion utilissimo grazie mi fa molto piacere grazie sempre per la sveglia che ci dai argomento di domani argomento di domani domani parliamo di livelli e pannello dei livelli ok livelli e pannello dei livelli così impariamo a usarlo veramente come delle schegge va bene ragazzi grazie mille per l'attenzione c'è un caldo infernale anche oggi ci vediamo domani alle 15 qui in diretta su fotografia professionale di nuovo con un'altra diretta un'altra diretta fighissima e dottor photoshop me lo segno grazie Carmine in realtà io ho pubblicato qualche anno fa un'immagine in cui ero il ministro di photoshop mi piaceva molto questa cosa perché potevo avere la divisa e il monocolo ed era molto divertente lo rifarò da ministero di photoshop era il periodo in cui Lenny Kravitz se ne era uscito con I'm the minister of rock and roll mi piaceva molto e quindi volevo fare il ministro di photoshop ragazzi grazie mille per l'attenzione grazie per le domande per il divertimento di ogni giorno davvero mi diverto un sacco a farse dirette ci vediamo domani alle 15 puntuali parliamo di livelli e pannello dei livelli come usarli al meglio per ottenere risultati veloci e di qualità un abbraccio un abbraccio buona giornata buon pomeriggio a presto a domani ciao 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 a tutti per l'attenzione